Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico intenso verso nord tra Val di Chiana e Vivio A1 variante. In A12 restano rallentamenti verso Genova, tra il nodo A12 raccordo Lucca-Viareggio e il Vivio A12 a 15 Parma-La Spezia. Voltiamo pagina per il traffico urbano di Firenze. Da domani, 24 agosto, iniziano i lavori di risanamento dell'asfalto in via Baracca. Fino a sabato, senso unico da Via Legoria a Via Allori. Dal 31 agosto al 6 settembre scatterà la chiusura in orario notturno. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario fino al 29 agosto, ricordiamo la sospensione della circolazione tra Crespino dell'Amone e Faenza sulla linea faentina per lavori di potenziamento infrastrutturale. Il servizio sarà effettuato con bus sostitutivi. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!